buongiorno a tutti io sono gabriel bellelli sono un investitore un educatore finanziario indipendente e gestisco il sito bellelli punto biz dove ogni giorno fornisco in modo gratuito analisi commenti segnali operativi sui principali mercati finanziari in questo momento in italia uno dei temi più caldi che disturba il sonno dei risparmiatori e l'incubo di una tassa patrimoniale oppure di un prelievo forzoso in questo video ti spiegherò che cos'è un'imposta patrimoniale e quali forme può assumere quali sono i precedenti storici in italia se il pericolo di una tassa patrimoniale in italia è reale e imminente come difendersi analizzeremo insieme ogni soluzione ogni prodotto di investimento per verificare l'impatto sia in caso di prelievo forzoso che di imposta patrimoniale vedremo quali sono i prodotti finanziari che dovrebbero essere esclusi da un eventuale imposta patrimoniale vedremo quali altre soluzioni potrebbe adottare lo stato come alternativa ad un'imposta patrimoniale come è delineata in questo momento nell'immaginario collettivo e infine vedremo quando attivarsi qual è il momento quindi propizio per mettere in sicurezza il proprio patrimonio i propri sudati risparmi partiamo dalla base che cos'è un'imposta patrimoniale un'imposta eh una patrimoniale costituisce un'imposta straordinaria che va a colpire il patrimonio e quindi non il reddito costituito sia dai beni immobiliari come ad esempio il conto corrente deposito titoli le azioni le obbligazioni titoli di stato fondi comuni di investimento etf tc gestioni patrimoniali conti deposito e certifiche ma anche dai beni immobiliari quindi l'abitazione la prima casa la seconda casa eventuali negozi magazzini capannoni può colpire sia le persone fisiche le persone giuridiche come ad esempio le ditte individuali l'SRL oppure un ente un'associazione o una cooperativa questa imposta può essere sia ad importo fisso che eh variabile e potrebbe contenere anche qualche forma di esenzione oppure una franchise ad esempio potrebbe prevedere una soglia minima di patrimonio sotto la quale l'imposta non si applica entrando nel dettaglio per dare un quadro ancora più completo ed esaustivo eh un'imposta patrimoniale può essere soggettiva quando si applica all'intero patrimonio e quindi sia ai beni immobiliari che a quelli immobiliari oppure può essere reale quando in questo caso si applica ad una specifica componente del patrimonio l'esempio tipico di eh imposta patrimoniale reale è il prelievo forzoso che si applica in modo specifico a quella che è la liquidità contenuta nel conto eh corrente. Allo stesso tempo un'imposta patrimoniale può essere ordinaria quando un'imposta è strutturale e quindi viene applicata in modo sistematico ogni anno oppure straordinaria quando viene applicata in via del tutto eccezionale una tanto un si dice no in gergo tecnico per far fronte a una situazione di emergenza. Eh infine un'imposta può anche essere applicata attraverso una misura fissa quando l'importo è uguale per tutti i contribuenti oppure può essere variabile quando invece l'importo varia in funzione del patrimonio del eh contribuente. La domanda che eh probabilmente in questo momento ti stai ponendo è eh ma in Italia ci sono stati dei precedenti storici? Qualche governo del passato ha già varato una riforma patrimoniale? Ecco in tema di precedenti storici la nostra mente non può che volare nel lontano millenovecentonovantadue esattamente nella notte tra il nove dieci luglio quando il governo Amato varò una imposta patrimoniale reale sotto forma di prelievo forzoso nella misura dello zero sessanta per cento del denaro depositato sui conti correnti. Per darti un'idea concreta è su un conto corrente di centomila euro e un prelievo dello zero sessanta si traduce in seicento euro. Eh dal punto di vista di un governo un prelievo forzoso è una soluzione che permette di ottenere immediatamente in modo veloce del denaro cash utile no a rinforzare le le finanze dello Stato. Eh da questo punto di vista si deduce facilmente che se il prelievo forzoso è una soluzione che in genere ha carattere di urgenza e che viene adottata solo in situazioni di estrema emergenza in pratica quando uno Stato ha la canna del gas ed è sul precipizio del default. Invece da un punto di vista del risparmiatore si tratta di una manovra che viene percepita come invasiva quasi come una violenza fisica non è un caso che nonostante siano passati quasi trent'anni il prelievo forzoso e Amato siano ancora ben presenti nella mente del risparmiatore italiano. A questo punto probabilmente ti starai chiedendo ma in Italia il pericolo di una tassa patrimoniale è davvero reale davvero imminente allora non giriamoci in tono l'Italia ha un problema grave che si chiama debito pubblico è un problema cronico che l'Italia si porta dietro ormai da tanti anni e che in questo periodo per far fronte all'emergenza coronavirus sia da un punto di vista sanitario che da un punto di vista economico è destinato ad aumentare in modo consistente per darti un'idea concreta le stime del rapporto debito PIL indicano una soglia di arrivo in area 150-160% probabilmente in questi giorni non ti sarà neanche sfuggito il numero di politici italiani ed esteri non dimentichiamoci che all'estero sono nostri creditori quindi è normale che siano ben focalizzati nel verificare nel sincerarsi dell'assolvibilità dello Stato italiano. Comunque dicevo il numero dei politici italiani ed esteri che ipotizzano forme patrimoniali sta aumentando giorno dopo giorno in Europa sanno benissimo che in Italia la mole di ricchezza intesa come risparmio privato è elevata è una delle più elevate nel mondo e allo stesso tempo quante volte nel corso degli ultimi anni hai sentito un politico italiano citare frasi del tipo l'Italia ha un alto debito pubblico ma una grande ricchezza privata oppure frasi del tipo debito pubblico e ricchezza privata sono due tasche dello stesso vestito non puoi guardare in una tasca ignorando l'altra. Non ultima mi viene in mente così su due piedi la frase del presidente del consiglio Conte che nei giorni scorsi mi pare domenica scorsa ha dichiarato il nostro debito pubblico rimane sostenibile ma attenzione nel quadro di un risparmio privato molto cospicuo. In un contesto di questo tipo comprendi facilmente come ipotizzare un'imposta patrimoniale finalizzata a spostare la ricchezza privata nelle tasche dello Stato per ridurre il debito pubblico non sia certamente un'idea campata per aria ma sia una eventualità assolutamente da prendere in considerazione. Personalmente ritengo che oggi quindi in Italia ci siano le condizioni economiche per adottare una patrimoniale ma al tempo stesso, questo è il dato secondo me importante, ritengo che invece non ci siano le condizioni sociali, le condizioni politiche. È vero che il debito pubblico è elevato ed è in forte aumento ma è altrettanto vero che stiamo vivendo una situazione di forte stress sia a livello emotivo che a livello finanziario con la chiusura forzata e prolungata per un paio di mesi di molte attività economiche. Ecco, se fossimo in un mondo razionale in questo momento un governo dovrebbe pensare a come mettere il denaro nelle tasche degli italiani in modo che inizino a vedere la luce in fondo al tunnel, che ritrovino speranza e che riprendano i consumi in modo tale da far ripartire almeno in un qualche modo l'economia. In questo preciso momento quindi se io dovessi scommettere punterei sul fatto che non ci sarà né un prelievo forzoso e neanche una patrimoniale non è una certezza ovviamente ma se io fossi un politico in questo preciso momento e sottolineo in questo preciso momento agirei in questo modo. Purtroppo però lo scenario secondo me cambia se si ragiona invece in prospettiva futura ecco quindi qui penso che invece quando le acque si saranno calmate, l'economia si sarà ripresa o quantomeno risollevata ritengo invece che in quel momento lo Stato avrà una forte necessità di abbassare il proprio debito pubblico per cui è da mettere in conto che in quel momento, quindi più avanti nel tempo, assisteremo invece ad un aumento di tutte quelle che sono le imposizioni fiscali in Italia. Se mai ce ne fosse necessità, nei giorni scorsi l'agenzia di rating, la più famosa Standard & Poor's nel confermare il nostro rating ha però sottolineato che una volta che sarà tornata una qualche forma di normalità ecco serve un piano credibile per la riduzione del debito pubblico italiano, quindi morale della favola. Sintetizzando al massimo potremmo dire che la patrimoniale è spostata in avanti nel corso del tempo, non è probabilmente un rischio immediato ma in prospettiva futura è un'eventualità da non scartare. Detto in altre parole potremmo dire che la patrimoniale non è una questione del se ma è una questione del quando. A questo punto allora in quest'ottica quindi è saggio iniziare a porsi il problema in modo da poter valutare e pianificare per tempo quelle che sono le eventuali soluzioni e la messa in sicurezza del proprio patrimonio. Immagino infatti che in questo momento nella tua testa stiano girando due domande, ad esempio quali saranno i beni su cui lo Stato andrà a applicare la patrimoniale? Eppure come posso fare per proteggere il mio patrimonio da una patrimoniale oppure da un prelievo forzoso? Allora per rispondere a questi temi è opportuno partire da un dettaglio che non viene mai sottolineato ma che come vedremo più avanti nel corso di questo video è determinante. Devi infatti sapere che attualmente in Italia sono già in vigore numerose patrimoniali. C'è l'imposta di bollo sul conto corrente, c'è l'imposta sul deposito titoli che ammonta allo 0,20% del controvalore del deposito titoli fotografato il 31 dicembre di ogni anno c'è l'imposta sugli immobili con l'esclusione della prima casa a patto che non sia classificata come di lusso e ci sono le tasse di successione. Le tasse di successione sono tecnicamente una patrimoniale anche se in questo caso si applica una sola volta nella vita, non è il momento in cui il famoso decuius come si dice in gergo tecnico passa miglior vita e il suo patrimonio passa e si trasferisce agli eredi. Adesso in questa sede tralascio altre patrimoniali minori, penso ad esempio l'imposta di bollo comunque ci sono altre patrimoniali attive in questo momento in Italia oltre a quelle che vi ho appena citato. A me vedere quindi in realtà oltre che al problema del quando il problema è anche il come potrebbe essere applicata un'imposta patrimoniale. La domanda in questo caso è come posso difendermi da un'imposta patrimoniale? Allora la domanda è semplice, purtroppo la risposta è complessa. La difficoltà della risposta risiede nel fatto che un'eventuale imposta patrimoniale è a tutti gli effetti una decisione politica per cui la risposta è in funzione di come il governo potrebbe declinare questa eventuale imposta. Senza conoscere quindi le decisioni del governo infatti è impossibile comprendere a quali beni sarà applicata e contemporaneamente invece quali beni o quali prodotti finanziari saranno esenti da un'eventuale imposta. Quello che però possiamo fare e che in realtà noi dobbiamo assolutamente fare come risparmiatori è quello di avanzare delle ipotesi e di studiarne le possibili contromisure. Ti anticipo che purtroppo ci sono poche possibilità di scampare una patrimoniale perché i margini di manovra, lo vedremo, sono limitati, sono abbastanza angusti mentre invece ci sono maggiori possibilità di riuscire a evitare un eventuale prelievo forzoso sui conti correnti. Diciamo così, sintetizzando al massimo, lo approfondiremo tra poco, se lo Stato punta alla liquidità presente sul tuo conto attraverso un prelievo forzoso la soluzione è quella di non fare trovare allo Stato il denaro sul tuo conto corrente. Questo significa lasciare cash sul conto corrente solo un ridotto importo monetario che ti serve giusto per affrontare le spese della vita quotidiana. A parole, questa soluzione è semplice, la sua realizzazione in realtà è un pochino più complicata come vedremo tra qualche minuto quando andremo a descrivere quelle che sono le criticità e gli aspetti delicati a cui porre attenzione quando vuoi far scomparire il denaro dal conto corrente. Adesso cerchiamo di comprendere quali sono le possibili soluzioni a difesa dei tuoi risparmi. Passiamo quindi in rassegna numerose soluzioni e tutti i principali prodotti finanziari per cercare di capire quali sono i punti di forza, quali sono i punti di debolezza in caso si verifichi o un prelievo forzoso piuttosto che una patrimoniale. Allora, partiamo dalla soluzione indubbiamente più efficiente ma anche quella meno applicabile purtroppo per la maggioranza dei risparmiatori italiani. Questa soluzione si chiama residenza fiscale estera e consiste fondamentalmente nello spostare la propria vita e la propria fiscalità all'estero. L'esempio classico è la Svizzera che rappresenta un territorio fuori dall'Unione Europea ma se si preferisce restare in clima europeo oppure se si preferisce il sole e il mare le soluzioni più gettonate in genere sono Malta, Cipro oppure le isole Canari ovviamente poi nulla vieta di optare per altre mete, penso all'Inghilterra, all'America, eccetera. I punti di forza di questa soluzione e quindi della residenza fiscale estera sono fondamentalmente due. Il primo aspetto positivo è che si tratta di una soluzione assolutamente legale, assolutamente lecita. Il secondo punto di forza è che si tratta di una soluzione davvero efficiente per evitare completamente sia il prelievo forzoso che un'imposta patrimoniale da parte dello Stato italiano. Purtroppo però a fronte di questi vantaggi non dimentichiamoci che ci sono degli aspetti critici, molti aspetti critici, che sono numerosi e che riguardano sia la parte realizzativa e quindi l'implementazione di questa soluzione, sia gli aspetti sentimentali. Innanzitutto occorre davvero trasferirsi fisicamente all'estero e rimanervi per almeno 133-184 giorni all'anno, quindi la metà dell'anno più un giorno, considerate anche l'anno eventualmente bisestile, occorre aggiungere un ulteriore giorno e questi giorni non è necessario farli in modo continuativo, però più della metà dell'anno devi svolgerla fisicamente, devi viverla fisicamente all'estero. In più considera che è una soluzione da pianificare nei dettagli, facendoti assolutamente affiancare da un commercialista esperto in questo settore, perché il rischio di esterovestizione o comunque di incappare in problemi con il fisco italiano sono elevati, se non vai a compiere tutti i passaggi in modo assolutamente corretto e legale. Alta precauzione ovviamente devi trasferire completamente tutto il conto corrente, tutto il deposito titoli all'estero, devi anche evitare di avere in Italia immobili di proprietà, abitazioni in affitto, comunque possedere conti correnti, depositi titoli in banche italiane con sedi in Italia e al tempo stesso devi trasferire anche i tuoi affetti all'estero, quindi anche la moglie, il marito e gli eventuali figli dovrebbero accompagnarti in questa avventura all'estero. Tra gli aspetti negativi ovviamente segnalo anche la necessità di doversi rimettere in gioco, di imparare eventualmente una nuova lingua, di ricrearsi una cerchia di amicizie e non ultimo anche di ricostruirsi una carriera lavorativa. Non tutte le persone possono smettere di lavorare in Italia e immediatamente riattivare la propria professione all'estero. Qualche fortunato che svolge un lavoro online, che si può svolgere in qualsiasi parte del mondo, lo può fare, qualche altra persona, penso ad esempio ad un insediente di lettere o cose di questo tipo, un impiegato fa un attimo più fatica, quindi deve andare a ristrutturare la propria vita lavorativa ricreandola. Si tratta indubbiamente in questo caso di una scelta di vita. Io conosco numerose persone che l'hanno effettuata e che sono soddisfatte, però dal mio punto di vista questa soluzione può valere la pena solo e soltanto in due casi. Il primo caso è economico, mettiamolo in questi termini, nel senso che il primo caso è quello di un risparmiatore che se adotta questa soluzione di trasferire la propria residenza fiscale estera, ottiene un risparmio economico notevole e questo significa che il suo patrimonio è almeno di alcuni milioni di euro. Mi spiego con un esempio concreto, giusto per capirsi. Se un risparmiatore mette in piedi la residenza fiscale estera solo per risparmiare 1.000 euro, 5.000, 10.000 euro di patrimoniale, probabilmente non sta compiendo una scelta saggia. Il costo è probabilmente superiore a tutto il resto. Il secondo caso invece è la persona che decide di trasferirsi per dare una migliore opportunità di vita ai propri figli. Qui esuliamo dal discorso economico, però se ci pensi la generazione di chi oggi ha tra i 20 e i 40 anni è chiamata a compiere una scelta atroce. Il dilemma è tra resto in Italia e faccio un torto a mio figlio perché lo costringo a vivere e a crescere in un paese in progressivo degrado e senza grosse possibilità concrete di risollevarsi oppure vado all'estero e faccio invece un dispetto ai miei genitori che quando avranno bisogno di assistenza non sarò in grado di fornirgli il mio aiuto. Se ci si focalizza sul futuro dei propri figli sicuramente la soluzione estera potrebbe assumere invece una connotazione senza dubbio logica e positiva. Una seconda soluzione consiste nell'aprire un conto corrente all'estero qualcuno sostiene. Ovviamente questa soluzione è collegata anche al trasferimento all'estero del deposito titoli quindi qui ho scritto conto corrente estero ma in realtà il conto corrente si porta con sé anche il deposito titoli. L'esempio classico è il conto corrente in Svizzera e qui basta attraversare il confine andare nella prima delle due città che si incontrano Mendrisio piuttosto che Lugano entrare nella prima banca oppure l'ufficio postale e aprire il conto tutto è tutto per aprire un conto corrente nel canton Ticino non c'è neanche il problema della lingua perché si parla italiano e tutto quello che sono la contrattualistica dei conti correnti eccetera è tutta in italiano. Partiamo da un concetto che deve essere assolutamente chiaro a tutti. Allora innanzitutto detenere denaro all'estero è assolutamente lecito e assolutamente legale ovviamente a patto che si rispetti l'obbligo di dichiararlo al fisco italiano andando a compilare nella dichiarazione dei redditi quelli che sono gli appositi campi. L'obbligo della dichiarazione dei redditi scatta il superamento della cifra dei 9.900 euro sotto questo importo non ci sarebbe l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il detenere un conto estero. In ogni caso il mio consiglio è quello di dichiarare qualsiasi importo anche sotto i 9.900 euro in modo tale che si eviti a monte qualsiasi fraintendimento col fisco italiano. Mi raccomando evita accuratamente chi ti propone di aprire conti cifrati in paradisi fiscali, chi ti consiglia numerosi sotterfugi, soluzioni un po' da tragattino, chi si spaccia magari per un novello spallone. Nella migliore delle ipotesi non vedrai più indietro il tuo denaro, nella peggiore avrai anche parecchi problemi col fisco e con l'ordinamento giuridico italiano. Quindi non ho nessun dubbio nel consigliarti di rispettare alla lettera la legge. Considera che il tempo dei paradisi fiscali è terminato e tutti quelli che si vogliono avventurare in queste soluzioni avranno più problemi che benefici. Detto questo, l'aspetto che mi preme sottolineare di questa soluzione, quindi dell'apertura di un conto corrente estero, è che non ti risolve, e sottolineo il non, né il problema del prelievo forzoso né quello della patrimoniale, perché è assolutamente improbabile innanzitutto che il governo si dimentichi del denaro depositato al resto, ma regolarmente dichiarato all'interno della dichiarazione dei redditi. In più, considera che l'eventuale prelievo o patrimoniale sarebbero semplicemente rimandati di qualche mese. È infatti vero che lo Stato non può mettere direttamente le mani dentro un conto estero, ad esempio il conto di una banca svizzera, ma è altrettanto vero che ad oggi, grazie alla trasparenza bancaria, lo Stato sa, dalla tua dichiarazione dei redditi, l'esistenza e l'ammontare del tuo conto corrente del deposito titoli. Quindi, semplicemente lo Stato deve aspettare che tu, l'anno sul fiscale successivo vada a compilare la dichiarazione dei redditi, ecco che in quel caso dovrai versare l'obolo o del prelievo o della patrimoniale. Morale della favola, il conto corrente o il deposito titoli esteri non sono assolutamente una garanzia per evitare né patrimoniale né prelievo forzoso. A questo occorre sottolineare un altro dato, come spesso sia necessario recarsi fisicamente all'estero, che di questi tempi con i blocchi della circolazione non è anche un'operazione così tanto agevole, ma soprattutto considera che spesso i costi delle banche estere tendono a essere decisamente più elevati di quelli medi delle banche italiane, soprattutto delle banche online. Detto questo, un conto estero potrebbe invece essere utile in tema di diversificazione e di riduzione del rischio, soprattutto per quei risparmiatori che hanno la fortuna di avere un patrimonio importante. In più, se un investitore teme per l'assolvibilità dello Stato e per la sicurezza del sistema bancario italiano, o peggio ancora, teme un ritorno alla lira, ecco che avere un conto estero può indubbiamente essere una soluzione utile per andare a diversificare, a diminuire il rischio. In realtà servono anche altri accorgimenti, in questo caso se temi la rottura dell'euro, ritorno alla lira, eccetera, ma questi te li descriverò in un apposito video che registrerò a breve, che potrete trovare qui sul mio canale YouTube. Sempre in tema di banche, per chi desidera diversificare su banche estere, in particolare focalizzandosi sulla gestione del conto corrente e delle carte di credito, però senza avere la necessità di dover andare fisicamente all'estero per aprire il conto, ecco nel segnalo 2, la banca N26 e la banca olandese Bank. Una terza soluzione consiste nel rifugiarsi nel caro vecchio denaro in contante. Partiamo dal presupposto che prelevare e detenere denaro in contanti è assolutamente lecito legale. Nella teoria questa è una soluzione, diciamo così, efficiente per evitare un prelievo forzoso e per evitare o comunque limitare l'incidenza di una patrimoniale. Nella pratica però ci sono degli aspetti e delle criticità che occorre considerare prima di implementare questa soluzione. Il primo aspetto è che oggi i prelievi attirano le attenzioni del fisco italiano, soprattutto oltre i 10.000 euro a casa delle varie norme anti-usura, anti-riciclaggio, anti-lavoro nero, eccetera. Il secondo aspetto a cui devi fare attenzione è la custodia che deve avvenire ovviamente in un luogo sicuro e io eviterei di tenere del denaro contante soprattutto in cifre importanti in casa anche se ben nascoste. Il terzo aspetto consiste nella modalità con cui un domani, pericolo scampato, tu andrai a reinserire il tuo denaro sul conto corrente. Ecco a questo punto reinserire il denaro sul conto corrente senza rischiare di attirare l'attenzione e gli accertamenti dell'agenzia dell'entrata e della guardia di finanza non è operazione semplice, è molto probabile che ti contattino e ti chiedano la provenienza di questo denaro. Anche qui attenzione perché ci sono tutte le norme contro il riciclaggio, l'usura, il denaro nero, eccetera. Quindi potrebbe essere un problema non da poco da giustificare. Il quarto aspetto è un aspetto pratico. Se l'importo da prelevare è limitato, quindi parliamo di qualche migliaia di euro, può anche essere una soluzione da valutare per carità con le precauzioni che abbiamo detto prima. Però se si tratta di prelevare 40-50 mila euro oppure anche cifre decisamente superiori, ecco, allora non credo che detenere denaro in contanti sia davvero la soluzione sazza. Una quarta soluzione che qualcuno ipotizza come alternativa al detenere il denaro cash in contanti è quello di un assegno circolare, ovviamente non trasferibile e intestato a se stessi. Personalmente non ritengo che questa soluzione sia efficiente per evitare un prelievo forzoso oppure una patrimoniale. Il motivo principale del mio scetticismo deriva dal fatto che il governo potrebbe tranquillamente inserire nella manovra anche l'importo degli assegni circolari emessi ma non ancora incassati. Da questo punto di vista quindi non c'è nessuna certezza che gli assegni circolari saranno esentati in caso di patrimoniale. Inoltre occorre considerare il problema della scadenza dell'assegno, della custodia e in futuro ci sarà anche qui il problema di reimmettere questo denaro sul conto corrente senza richiamare le attenzioni del fisco che ci chiederà eventualmente conto di questo denaro. Una quinta soluzione consiste nel depositare del denaro all'interno della cassetta di sicurezza e allora anche in questo caso occorre distinguere tra teorie pratiche dal mio punto di vista. Nella teoria potrebbe effettivamente essere una soluzione efficiente per evitare un prelievo forzoso oppure per limitare l'incidenza dell'imposta patrimoniale però nella pratica ci sono indubbiamente degli elementi da tenere in considerazione. In primo luogo quando si preleva del denaro dal conto corrente abbiamo visto che si corre il rischio di una segnalazione all'agenzia delle entrate come abbiamo detto qualche minuto fa. In secondo luogo occorre tenere in considerazione che una cassetta di sicurezza è un bene tracciato non nei contenuti volendo ma nel suo possesso e negli accessi che vengono fatti alla cassetta di sicurezza per cui fondamentalmente Guardio di Finanza e Agenzia delle Entrate potrebbero chiederti informazioni sul contenuto soprattutto un domani quando anche qui andrai a depositare nuovamente questo denaro sul conto corrente sarai chiamato a dimostrarne e a giustificarne la provenienza. Un'altra soluzione che viene citata è quella dei pronti contro termine personalmente ritengo che non siano una soluzione particolarmente interessante da valutare in primo luogo perché non c'è nessuna evidenza che i pronti contro termine permettano di evitare un prelievo forzoso oppure una patrimoniale dal mio punto di vista in caso di patrimoniale anche questo prodotto verrà colpito quindi non credo che ci sia nessuna esenzione da questo punto di vista ma in secondo luogo considera che i pronti contro termine hanno dei vincoli di durata e in più ti espongono al rischio default dell'emittente con cui l'hai stipulato quindi non mi sembra una soluzione che porti dei grandi vantaggi e dei grandi benefici. Poi abbiamo l'ipotesi del conto deposito il conto deposito è una forma di parcheggio di liquidità simile anche se non uguale ad un conto corrente. Forse, sottolineo il forse, un conto deposito potrebbe scampare a un prelievo forzoso ma non scampa sicuramente all'imposta patrimoniale già adesso gli importi monetari investiti in un conto deposito sono gravati dall'imposta annuale dello 0,20% che si applica al controvalore dei depositi o titoli quindi già oggi c'è una patrimoniale sul controvalore investito in conti deposito dubito che un'altra patrimoniale, una tantum li vada a esentare. Poi abbiamo il discorso del libretto postale i libretti postali sono un prodotto emesso dalla cassa depositi e prestiti e garantito dallo Stato italiano per cui tecnicamente sono un libro aperto per lo Stato italiano anche qui io personalmente ritengo che non siano una soluzione utile per proteggersi da un prelievo piuttosto che da una patrimoniale. Poi abbiamo i prodotti monetari penso ad esempio agli ETF ai fondi di investimento che investono in obbligazioni generalmente in titoli di Stato con scadenza breve inferiore ai 12-18 mesi ecco gli strumenti monetari probabilmente ti permettono di evitare il prelievo forzoso dal momento che sottraggono denaro al conto corrente però attenzione purtroppo non ti evitano una patrimoniale dal momento che già oggi essendo contenuti all'interno del deposito titoli dicevo già oggi sono gravati dall'imposta annuale dello 0,20% poi abbiamo il discorso titoli di Stato allora investire in titoli di Stato italiani ti permette sicuramente di sottrare del denaro dal conto corrente per cui sicuramente ti evita il problema del prelievo forzoso ma purtroppo non ti evita il problema della patrimoniale anche in questo caso già adesso i titoli di Stato sono contenuti all'interno del deposito titoli per cui già adesso sono gravati dalla patrimoniale annuale dello 0,20% che si apre che abbiamo detto al controvalore del deposito titoli qualche commentatore economico ipotizza che in caso di patrimoniali una tantum i titoli di Stato potrebbero essere esentati da questa tassa è plausibile in effetti che il governo possa valutare queste ipotesi però non mi pare almeno personalmente che sia una strada facilmente percorribile sia da un punto di vista giuridico che costituzionale quindi insomma sarei cauto nel dire che i titoli di Stato saranno esentati da un eventuale patrimoniale una tantum sempre in tema di obbligazioni in questo caso di obbligazioni corporate quindi obbligazioni emesse da aziende private pensiamo a Eni Fiat Unicredit eccetera dicevo le obbligazioni corporate probabilmente ti permettono di evitare il prelievo forzoso perché semplicemente è denaro cash che viene investito e quindi da quel punto di vista il denaro non è più sul conto corrente ma è investito appunto in obbligazioni corporate per cui da un punto di vista tecnico sicuramente il prelievo forzoso non va a colpire questo asset però attenzione le obbligazioni corporate rientrano sicuramente all'interno di quello che è il perimetro diciamo così di una patrimoniale non solo già adesso le obbligazioni sono inserite all'interno del deposito titoli per cui ogni anno si pagano 0,20 su quel controvalore attenzione oltretutto un dato che se non vai a selezionare con cura l'emittente dell'obbligazione si corre il rischio di incappare in un default con la conseguenza che per evitare una patrimoniale si perde poi una cifra maggiore semplicemente acquistando l'obbligazione sbagliata dell'emittente che va a gamballare quindi una soluzione eventualmente da ponderare anche dal punto di vista del rischio poi abbiamo tutto il tema delle azioni e il tema degli ETF degli ETC dei fondi di investimento ma in realtà in questa tematica ci possiamo far rientrare anche i PIR ci possiamo far rientrare anche le gestioni patrimoniali allora se investiti in tutti questi prodotti quindi abbiamo detto azioni ETF TC fondi PIR e gestioni patrimoniali eviti il prelievo forzoso ma non eviti assolutamente la patrimoniale perché tutti questi prodotti già oggi sono gravati dall'imposta di bollo dello 020 che si applica ai conti deposito per cui sono già tassati oggi con una patrimoniale e dubito che la possano scampare in un futuro inoltre comprando un'azione ad esempio piuttosto con ETC su una materia prima cose di questo tipo il rischio è quello di passare dalla padella alla braccia per non pagare la patrimoniale si rischia di comprare un'azione che si deprezza di un ammontare maggiore rispetto a quello che è il valore della patrimoniale che si è scampati quindi per evitare una patrimoniale si va a perdere magari una cifra superiore comprando un'azione che invece di salire o di rimanere stabile si deprezza poi c'è il tema dell'oro fisico allora l'oro fisico è sicuramente una soluzione utile per evitare il prelievo forzoso dal momento che riduce la liquidità che è presente sul conto corrente potrebbe anche essere una soluzione utile per diversificare il portafoglio non è invece automatico che protegga da una patrimoniale una tantum se infatti acquisti l'oro finanziario quindi acquisti un ETC che investe nell'oro fisico beh questo prodotto confluisce all'interno del deposito titoli che già oggi è gravato da un'imposta dello 0,20% all'anno quindi già oggi è un prodotto gravato da una patrimoniale quindi difficilmente l'oro finanziario verrà esonerato in futuro diverso invece il discorso se acquisti l'oro fisico inteso proprio come monete o come lingotti in questo caso infatti è possibile tecnicamente evitare la patrimoniale però occorre considerare alcuni aspetti che occorre conoscere prima di effettuare questo passaggio primo aspetto occorre prestare attenzione alla quantità di oro che si acquista che deve essere una percentuale sempre contenuta dell'intero portafoglio finanziario ora è impossibile stabilire una percentuale di oro da detenere in portafoglio che sia valida per ogni investitore dal momento che si tratta di un dato soggettivo e che dipende dalla pianificazione finanziaria personale però in linea generale direi che la soglia diciamo così tipica del buon padre di famiglia dovrebbe essere compresa a cavallo di un 5-10% del portafoglio finanziario non oltre secondo aspetto occorre prestare attenzione anche alla qualità dal momento che sono frequenti case di frodi sia come monete contraffatte soprattutto se hanno un valore anche numismatico che come falsi lingotti oggi esistono dei lingotti che sono di fatto composti da anim e di tuxteno che è un materiale che ha un peso specifico uguale a quello dell'oro ma all'esterno sono placati da una leggera patina d'oro se desideri diciamo così percorrere la strada dell'oro fisico ti consiglio senza nessun dubbio di rivolgerti esclusivamente a società serie penso ad esempio ai tal preziosi oppure valuta di farti guidare di farti consigliare da un consulente di tua fiducia onde evitare qualche fregatura che ti garantiscono nel settore dell'oro fisico e dietro l'angolo soprattutto se non sei esperto ricorda un'altra cosa che gli acquisti che vengono effettuati per un controvalore monetario uguale oppure superiore a 12.500 euro devono obbligatoriamente essere dichiarati all'UIF che è l'unità di informazione finanziaria in base a quelle che sono le regole dell'antiriciclaggio per cui in questo caso l'oro in tuo possesso verrebbe diventerebbe un bene conosciuto per lo stato italiano ovviamente siamo in Italia c'è un piccolo trucco è sufficiente effettuare una serie di acquisti magari in momenti diversi nel corso del tempo ovviamente ognuno di questi acquisti deve essere di importo inferiore rispetto alla soglia di 12.500 euro in questo modo eviti di dichiarare di fare sapere allo stato che hai acquistato dell'oro fisico in realtà questa è una mezza verità perché dando per scontato che l'acquisto venga attraverso un bonifico bancario ecco la movimentazione tracciata quindi in modo indiretto lo stato qualche indizio sul tuo acquisto ce l'ha se vuoi proprio limitare al massimo questo rischio devi effettuare una serie di acquisti ognuno inferiore ai 12.500 euro con pagamento in contanti ma non è una soluzione sicuramente semplice soprattutto se vuoi acquistare dei controvalori importanti a livello di oro perché un conto è costare 1.000, 2.000, 3.000 euro in contanti un conto è acquistare 40, 50, 100.000 euro di oro fisico in contanti terzo aspetto occorre studiare attentamente la custodia in modo da evitarne ovviamente il furto quindi in quest'ottica è necessario andare a considerare tutti quelli che sono i costi di custodia e tutti i costi della cassetta di sicurezza o di una qualsiasi forma di assicurazione quarto aspetto non dimenticare che l'oro tende ad essere un bene poco liquido questo significa che quando vuoi comprarlo c'è la fila per vendertelo mentre invece quando vai a vendere dovrai fare i conti con pochi acquirenti con prezzi tirati e con uno spread o con missioni particolarmente elevate quinto aspetto considera che l'oro non paga cedole periodiche non è come le obbligazioni che paga una cedola o come le azioni che staccano il dividendo per cui se il tuo obiettivo finanziario è quello di ottenere un'entrata periodica forse l'oro non è la soluzione più efficiente per andare a soddisfare quello che è il tuo obiettivo finanziario detto in altre parole magari acquistando oro fisico eviti la patrimoniale però inserisci all'interno del portafoglio un prodotto inefficiente per il tuo obiettivo che è quello di avere entrate periodiche sesto aspetto ultimo l'oro potrebbe depreciarsi una volta che tu l'hai acquistato per cui anche qui potresti passare dalla padella alla braccia in pratica il depreciamento dell'oro potrebbe essere diciamo così superiore all'importo monetario che risparmi dal non pagamento della imposta patrimoniale quindi anche questa è una soluzione che comporta assolutamente dei rischi ora se l'oro può avere un suo perché all'interno del portafoglio anche semplicemente come discorso di diversificazione e di riduzione del rischio del portafoglio ecco che sicuramente invece i diamanti sono uno strumento assolutamente da evitare adesso qui non sto a rivangare tutti i fatti di cronaca se vai su google e cerchi diamanti trovi parecchie cause parecchie situazioni spiacevoli che hanno vissuto molti investitori in Italia dicevo non voglio rientrare e sottolineare nuovamente per questione anche di tempo tutti questi aspetti negativi che hanno i diamanti qui mi limito a citare la scarsa trasparenza e la mancanza di oggettività nella determinazione del prezzo di un diamante altro difetto la scarsissima liquidità per cui è decisamente complicato riuscirlo a rivendere oltretutto all'atto della vendita sono frequenti commissioni anche di un 10-15% del controvalore quindi insomma sintetizzando al massimo i rischi sono decisamente superiori al potenziale beneficio eventualmente di non pagare o un prelievo forzoso un'imposta patrimoniale per cui evita assolutamente come la peste i diamanti poi c'è il tema del bitcoin o comunque più in generale di quelle che sono le criptovalute ovviamente anche qui con lo scopo sempre di evitare un eventuale prelievo forzoso piuttosto che una patrimoniale allora al momento le criptovalute sono un asset di base poco controllato da parte dello Stato per cui è possibile probabilmente riuscire a proteggersi da un prelievo forzoso da una patrimoniale quindi se tu acquisti criptovalute è probabile che lo Stato ignori queste tue proprietà e quindi è denaro che sottraia il conto quindi non viene colpito dal prelievo è denaro che sottraia al patrimonio conosciuto e quindi probabilmente anche un'imposta patrimoniale potrebbe essere ovviamente facilmente l'usa ma tieni presente che c'è una grossa controindicazione a questo le criptovalute sono un asset molto variabile molto volatile in quelli che sono i prezzi i prezzi hanno delle oscillazioni di prezzo molto marcate in termini percentuali per cui il rischio è quello di perdere del denaro invece che guadagnarlo quindi per cercare di evitare una patrimoniale vai a perdere una quantità di denaro maggiore semplicemente per oscillazioni molto marcate di queste criptovalute in più non dimentichiamoci che è un mercato non regolamentato quindi anche questo compone e comporta un elevato fattore di rischio poi c'è il tema del collezionismo qui con collezionismo mi riferisco ad esempio alle collezioni di orologi di franco bolli di vino di auto di monete in realtà in questa fattispecie ci possiamo far rientrare ovviamente anche l'arte i gioielli che qui non ho messo come immagini ma che rientrano a tutti gli effetti in questa casistica oggi rilevo che numerosi commentatori suggeriscono di acquistare oggetti da collezione nella teoria questa soluzione effettivamente permette di evitare un prelievo forzoso oppure una patrimoniale ma nella pratica concreta io ritengo che questa soluzione sia in realtà da evitare non mi spingo a definirla poco intelligente ma ci vado abbastanza vicino allora le controindicazioni secondo me sono numerose anche qui mi limito a citare le principali la prima è che per acquistare oggetti da collezione occorre davvero essere esperti altrimenti la fregatura è garantita sia in termini di qualità del prodotto che di prezzo il secondo difetto è che si tratta di prodotti decisamente poco liquidi per cui sono difficili poi da rivendere c'è una terza problematica che riguarda il rischio furto per cui occorre anche custodirli in un luogo sicuro eventualmente andando anche a considerare costi di custodia costi assicurativi quarta criticità ovviamente una volta che tu hai comprato uno di questi asset potrebbe tranquillamente depreciarsi quindi compri l'orologio che invece di aumentare di prezzo diminuisce compri l'opera d'arte che dovrebbe rivalutarsi invece si svaluta tu alla fine per evitare una patrimoniale ti ritrovi un quadro che si è svalutato che difficilmente riesci a rivendere quindi anche qui passi dalla padella alla braccia interessante invece il tema di quelli che sono i prodotti previdenziali allora se c'è una tipologia di prodotti che probabilmente permette di evitare sia il prelievo forzoso e al tempo stesso potrebbe anche non essere colpito da una patrimoniale sono proprio i prodotti previdenziali come le polizze vita penso alle ramo 1 scusate penso ai piani pensionistici o altre forme di accantonamento a scopo previdenziale dal momento che il denaro investito in questi prodotti non è nella diretta diciamo così disponibilità del risparmiatore perché servono dei requisiti minimi di contribuzione oppure di anzianità per poter accedere a questi fondi quindi è probabile che questi fondi siano esenti da un'eventuale imposta una tantum non si tratta ovviamente di una certezza ma c'è secondo me dal mio punto di vista perlomeno una qualche concreta speranza che tutti quelli che sono i prodotti davvero previdenziali possano effettivamente essere esentati da un'imposta una tantum patrimoniale attenzione però anche qui a due dettagli che un investitore consapevole deve conoscere prima di effettuare questa decisione allora il primo aspetto è che devi assolutamente evitare tutte quelle porcherie come le polizze finanziarie penso alle ramo 3 le famigerate unit link index link che sono prodotti remunerativi solo a chi li vende grazie agli alti costi di cui sono caricati quindi polizze ramo 3 e polizze finanziarie travestite da prodotti assicurativi previdenziali unit link index link sono assolutamente da evitare come la peste questo al di là del discorso proprio patrimoniale c'è proprio anche un discorso di caricamento di costi il secondo aspetto consiste nel fatto che le polizze sono tendenzialmente come abbiamo detto prodotti costosi ma anche poco trasparenti e spesso e volentieri pieni di vincoli per cui occorre diciamo così analizzarli nel dettaglio prima di andarli a sottoscrivere il rischio anche qui è quello che per evitare una patrimoniale una tantum tutti li trovi incastrato pagare ogni anno salate commissioni che per darti un'idea possono anche essere dell'ordine del 3-4% all'anno sono tante le polizze che hanno costi di caricamento annuali di questo tipo morale della favola se il prodotto previdenziale è idoneo e sottolineo idoneo alla tua personale pianificazione finanziaria quindi è efficiente per soddisfare il tuo obiettivo finanziario e contemporaneamente anche un costo di gestione hanno contenuto ecco allora che questi prodotti previdenziali possono essere una soluzione da valutare per il tuo portafoglio altrimenti se il prodotto previdenziale non è efficiente per la tua pianificazione finanziaria e quindi non è efficiente per realizzare il tuo obiettivo finanziario oppure se è eccessivamente costoso ecco non ha senso secondo me acquistarlo con l'obiettivo semplice di evitare una patrimoniale a questo punto dopo aver appreso che lo Stato italiano nei prossimi anni avrà bisogno di recuperare parecchio denaro per diminuire il debito pubblico che oggi è in forte aumento a questo punto probabilmente la domanda che ti sorge spontanea è ma lo Stato italiano dispone solo dell'arma della patrimoniale oppure può valutare anche altre soluzioni adesso quindi cerchiamo di capire quali possono essere le alternative per lo Stato per raccogliere denaro per diminuire il debito pubblico personalmente lo dico in modo molto chiaro sono convinto che lo Stato prenderà altre strade e che si concentrerà su soluzioni alternative rispetto a una patrimoniale se dovessi scommettere direi che patrimoniale prelevo forzoso sono le soluzioni in questo scenario meno probabili di tutte non è un caso che l'ex ministro Tria che fino a poco fa ha avuto le redini della situazione economica italiana abbia recentemente affermato che una patrimoniale rappresenta una misura distruttiva perché ha due controindicazioni la prima controindicazione è che scatena la fuga dei capitali liquidi fuori dall'Italia la seconda controindicazione è che andando a colpire il patrimonio immobiliare ne fa crollare il valore se io dovessi analizzare i numeri anzi no non so dovessi facciamo così analizzando i numeri ritengo che lo Stato disponga ad oggi di soluzioni molto più efficienti ma soprattutto percepite anche come meno invasive da parte dei cittadini per recuperare denaro per diminuire il debito pubblico mettere in otte tempo le mani nei conti correnti è indubbiamente un'operazione antipatica che colpisce la pancia dei risparmiatori che guarda caso poi sono anche gli elettori l'elenco delle soluzioni alternative che lo Stato potrebbe adottare sono davvero numerose per cui in questa sede in questo video mi limito a descriverti quelle che personalmente ritengo essere le più probabili oppure quelle che permettono allo Stato di ottenere il maggior il maggior gettito la prima soluzione potrebbe consistere in un aumento dell'IVA una seconda soluzione potrebbe essere quella di aumentare le imposte sui proventi finanziari oggi le cedoli i dividendi le plusvalenze di prodotti finanziari sono tassati al 12,5% per quanto riguarda i titoli di Stato e al 26% per tutti gli altri prodotti potrebbero tranquillamente essere aumentate entrambe queste due aliquote una terza soluzione scusate qui c'era l'IVA ho sbagliato una slide probabilmente chiedo scusa i proventi finanziari non li ho inseriti come slide chiedovenia comunque dicevo una terza soluzione è quella di andare a riformare le pensioni quindi andando abolire quota 100 e innalzando l'età pensionabile e qui io sono personalmente convinto che nei prossimi anni un altro giro di vite alle pensioni verrà dato magari dal prossimo governo tecnico che arriverà ma io penso che le pensioni siano sicuramente un tema su cui la politica metterà mano nei prossimi anni poi abbiamo il tema dell'IMU quindi qui potremmo avere di fatto una sorta di reintroduzione dell'IMU sulla prima casa o comunque potremmo avere in generale un incremento delle imposte sugli immobili detenuti come seconde caso oppure immobili dati in affitto queste sono un'ipotesi a cui io onestamente credo poco dubito infatti che un governo possa aumentare ulteriormente la pressione sul settore immobiliare perché comporterebbe una forte penalizzazione per un settore determinante per la crescita dell'economia e che già oggi è ampiamente tassato ed è anche in forte difficoltà a causa dei prezzi in generale diminuzione dell'aumento del numero degli inquilini che faticano a pagare l'affitto e delle banche che sono sempre molto sempre più selettive nel concedere muti con la conseguenza che poi rendono il liquido e poco fluido il giro delle compravendite una quarta soluzione potrebbe consistere nell'aumentare quello che è l'imposta di bollo annuale sui conti correnti e sui libretti postali oggi se la giacenza media sul conto corrente bancario postale è inferiore ai 5.000 euro all'anno è previsto un'esenzione di questa imposta mentre invece se la giacenza media annua è superiore a 5.000 euro ecco che l'imposta è di 34,20 euro per le persone fisiche di 10 euro per le persone giuridiche non vedo motivi per non aumentare leggermente questa imposta anche se in realtà questa imposta comporterebbe poche entrate per il conto dello Stato per cui è una stata percorribile ma con scarso risultato da un punto di vista monetario ecco più interessante invece il discorso depositi titoli un'altra soluzione per lo Stato potrebbe essere quella di aumentare l'imposta che ogni anno viene applicata abbiamo detto nella misura dello 0,20% sul controvalore dei depositi titoli già qui basterebbe semplicemente una modifica legislativa basta una singola riga che disponga che l'aliquota passa dall'attuale 0,20 al 0,4% ad esempio è una cifra che ho inventato io ovviamente già qui basterebbe quindi portare dallo 0,20 allo 0,40 per raddoppiare le entrate annuali sottolineo annuali da parte dello Stato questa quindi è una soluzione già pronta all'uso ed efficiente per le casse dello Stato e quindi credo che questo possa essere un rischio concreto infine il vero pericolo però almeno dal mio punto di vista si chiama tasse di successione e per la proprietà transitiva anche le donazioni quindi donazioni e tasse di successione secondo me sono il vero aspetto critico ora volendo ironizzare anche solo per sdramatizzare un tema che è doloroso potremmo dire che non c'è alcun dubbio che oggi l'Italia sia il paese ideale dove morire dal momento che le imposte sulle tasse di successione sono inferiori rispetto alla media degli altri paesi europei oggi l'Italia è il paese per intendersi con le tasse di successione più basse d'Europa per darti un'idea concreta i parenti in linea retta quindi parliamo del coniuge che va in molti modi in questi giorni e dei figli pagano un'imposta del 4% però attenzione con la franchigia di un milione di euro per ogni beneficiario non è certo un mistero che nel corso degli ultimi anni in Parlamento siano state avanzate numerose proposte per riformare le tasse di successione il filo conduttore di queste proposte consiste nell'abbassare la soglia di esenzione quindi nel diminuire la franchigia oppure nell'aumentare l'aliquota oppure di diminuire la franchigia aumentare l'aliquota per darti un'idea anche in questo caso una delle proposte che era stata discussa ed era all'interno di un possibile decreto legge disegno di legge era quella di abbassare la franchigia portandola da un milione a 500 mila euro e di aumentare l'aliquota dal 4 al 6 o 7% così a memoria non mi ricordo il dato ma era proprio il passaggio dal 4 al 6 oppure al 7 quindi un aumento quasi del 50% e questo era un'ipotesi che era stata formulata davvero in Parlamento quindi non vi sto raccontando una mia idea ma proprio un qualcosa su cui si era lavorato a livello di disegno di legge non solo in alcune di queste proposte si afferma che i titoli di Stato potrebbero non più essere esenti dall'asse ereditario ma al contrario potrebbero anche loro andare a determinare e quindi a concorrere a formare l'asse ereditario anche questa sarebbe una notevole novità qualcuno potrebbe obiettare che un'imposta patrimoniale una tantum permetterebbe allo Stato di ottenere del denaro e delle risorse immediate mentre invece un'imposta di successione prevede degli introiti che sono certi ma che sono differiti nel corso del tempo l'obiezione è sicuramente corretta però dal punto di vista monetario se ci pensiamo l'introito di una riforma delle aliquote delle tasse di successione sarebbe elevato e probabilmente sarebbe anche percepito come meno invasivo rispetto a una nuova imposta che viene calata ex nuovo dall'alto e quindi dal mio punto di vista questo è un aspetto a cui fare molta attenzione io sono convinto che il prossimo governo che metterà mano al debito pubblico si orienterà sicuramente nell'aumentare le imposte di successione oltretutto nel corso degli anni hanno aumentato l'IVA che è passata dal 20 al 21 poi al 22 hanno aumentato le imposte sugli immobili sono aumentate le imposte sulle rendite finanziarie mentre le successioni sono di fatto l'unica imposta che non ha subito nel corso degli anni nessuna variazione morale della favola in definitiva personalmente ritengo che l'aumento delle tasse di successione sia il pericolo in realtà più concreto per il tuo patrimonio e per quello della tua famiglia tornerò sull'argomento tasse di successione nei prossimi giorni dove registrerò un apposito video in cui ti illustrerò quella che è l'attuale fiscalità in tema di tassi di successione ti illustrerò quali sono oggi gli strumenti finanziari i partiti finanziari esenti dalle imposte di successione e ti illustrerò quelle che sono le soluzioni migliori per difendere per ottimizzare il passaggio generazionale del patrimonio tuo e della tua famiglia nel mentre ti suggerisco di iscriverti al mio canale youtube cliccando sul tasto rosso che trovi qui sotto con la scritta iscriviti in modo tale che quando il prossimo video sull'ottimizzazione delle imposte di successione sarà online sarai automaticamente contattato e avvisato prima di concludere c'è un ultimo dettaglio da sottolineare se temi un prelievo forzoso oppure una patrimoniale oppure anche una modifica di quelle che sono le tasse di successione devi muoverti subito devi muoverti per tempo organizzandoti fin proprio da questo momento perché queste manovre non si annunciano ma vengono ovviamente varate all'improvviso quindi questo significa che un eventuale patrimoniale avverrà all'improvviso e molto probabilmente avrà anche effetto retroattivo in modo tale da evitare la corsa per elevare il denaro se il video ti è stato utile se il video ti è piaciuto ti invito a cliccare mi piace nell'apposita icona che trovi qui sotto e a condividere sui social come ad esempio su facebook questo video in modo tale che possa essere utile anche a tutti quelli che sono i tuoi amici e i tuoi contatti nel mentre se hai dei dubbi delle domande io sono a completa disposizione mi puoi contattare all'indirizzo mail che trovi qui sotto vdg.bellelli at bellelli.biz ma soprattutto se vuoi puoi iscriverti al mio gruppo chiuso che è anche un gruppo gratuito che puoi trovare su facebook se vai su facebook e digiti Gabriele Bellelli trading e investing trovi il mio gruppo chiuso puoi chiedere l'adesione e sarà un piacere accoglierti all'interno del gruppo all'interno di questo gruppo potremo andare a approfondire queste tematiche e se lo desideri puoi anche pormi domande io ti fornirò volentieri degli approfondimenti su questo tema per questo video è tutto io ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e ti auguro una buona giornata grazie a tutti